ci vengo a fare una precisazione prima di iniziare con questo video precisazione che ho fatto in maniera praticamente identica in un video precedente io non sono assolutamente esperto di opzioni ho cominciato solo da poco e sto cercando di fare pratica nel mondo che trovo più adatto a me e nel modo che troppo adatto a me in questo periodo nel momento in cui sarò addentrato ancora di più nelle opzioni andrò sicuramente a studiare altre strategie adattandole anche alla tipologia di investitore quali io sono per cui ora vado a dirti quali sono i ragionamenti che faccio per utilizzare la mia strategia di covert call che utilizzo col broker sul conto bg sazzo e nel contempo per chi usa o chi vorrebbe usare questa piattaforma per investire ce n'esce anche fuori un piccolo mini tutorial sulle opzioni su come utilizzarlo ciao a tutti bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario ai ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale ovviamente dove link qui sotto nel caso tu lo voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da debitato seriale ad un investitore risparmiatore consapevole dove il link sia per la versione cartacea che per quella kindle qui sotto appunto con quali ragionamenti mi approccio io alla gestione delle opzioni al momento prima di tutto imparare a usarle bene e cercare di impararne le strategie più più strategie possibili da poter utilizzare il futuro in base ai diversi scenari di mercato nonché alle mie esigenze personali e questo lo posso vedere solo col tempo che passa ed avanza non riesco a fare previsioni adesso per quanto riguarda il motivo per il quale sto utilizzando in particolare le cover call ci sono due motivi principali che ti elenco qui e poi passiamo ovviamente alla mia operatività sul broker bigisaxo il primo è quello di creare un cash flow settimanale utilizzando aziende che hanno opzioni su cadenza settimanale e non mensile in modo tale che io possa avere tempi più ristretti e con lo stesso quanti attivo di denaro possa fare più operazioni al mese in questo modo fra gli incassi di dividendi ma ne parliamo a breve e magari in maniera più approfondita e i premi delle opzioni che vado in cassale più i soldi che deposto io dal mio stipendio il mio patrimonio dedicato alle opzioni è aumentato in un mese all'altro del quasi 15 per cento poi non usare le opzioni naked per due motivi in particolare al momento non mi va di agire allo scoperto non avendo appreso appieno e completamente le dinamiche delle opzioni possedendo un sottostante posso semplicemente perdere quello nel caso in cui l'opzione venga esercitata da chi è la acquistata i rischi del calo eccessivo del valore del titolo invece non lo terrei proprio in conto nel senso che anche se io detenessi e volessi possedere quella tipologia di azienda nel lungo termine e il prezzo di questa scendesse avrei comunque quel problema qui almeno incassando un premio dall'opzione cover call che ho venduta copro parte della perdita poi anche perché la piattaforma che utilizzo il bg sazzo non permette la vendita allo scoperto per cui il problema qui neanche si pone bene ora passiamo al terminale vi dico come agisco e perché allora eccoci al pc prima di andare a parlare della mia strategia di quello che la piattaforma bg saxo su come funziona e su come la utilizzo per fare le mie operazioni devo dire quattro cose la prima o una laringite che la metà basta come si può notare o una voce che sotto il livello del di soglia del silenzio per cui mi dispiace sarò un po rauco la seconda è che la mia strategia è quella di arrivare per ora a circa 10 mila euro di liquidità da utilizzare per le opzioni quindi in linea di massima spetta ad esempio le operazioni che sto facendo adesso che sono attorno ai 6 mila euro arrivare a 10 mila mi mancano 4 mila euro per arrivarci come faccio questo utilizzerò il cash flow degli introiti derivanti appunto dalle opzioni per aumentare questo cash flow e di volta in volta fino arrivare a questa soglia e poi utilizzare questi soldi di premi delle opzioni per acquistare nuove posizioni in tutto quello che sono le mie varie posizioni nei vari portafogli che posseggo poi successivamente quando avrò raggiunto una determinata soglia di titoli a quel punto vado ad incrementare nuovamente da 10 mila a portarla a 15 mila ed è un processo continuo facendo questo scambio fra l'acquisto di titoli nuovi all'utilizzo di nuova liquidità per andare a operare nuovamente in opzioni la terza cosa per la quale mi serviranno i premi incassati dall'opzione è quello di eventualmente utilizzare questa liquidità come emergenza nel caso in cui mi trovassi a dover gestire una spesa improvvisa una bolletta improvvisa come quella che mi è arrivata oggi di 608 euro di gas che secondo me è errata spero che lo sia o per qualsiasi altra spesa che voglia utilizzare questi soldi diciamo senza intaccare nel capitale nei dividendi che incasso mese dopo mese fatta questa premessa andiamo a vedere un attimino come funziona la piattaforma bg saxo e qual è la mia strategia qui come si può vedere una watch list di opzioni che non è l'unica che ho per le opzioni queste sono aziende che sto valutando da utilizzare o no e le sto studiando bene per vedere se effettivamente possono essere parte della mia strategia in opzioni l'unica che invece sto utilizzando e che utilizzo praticamente settimanalmente è medical property trust questo perché perché nelle varie altre watch list ho anche aziende ad esempio che voglio tenere per sempre aziende che invece utilizzerò solo per le opzioni aziende che vorrei solo shortare insomma avete capito è un processo mio quello divisorio che è molto settorializzato infatti qui medical property trust è ancora nel mio portafoglio senza che però io effettivamente abbia chiuso questa posizione né in perdita né tantomeno con le opzioni in questo momento la liquidità è di 36 euro perché ho utilizzato una buona parte dei premi che ho incassato per aprire anzi per incrementare uno di questi quattro etf in particolare l'ultimo che ho incrementato il fuzzi emerging market high dividend low volatility successivamente andrò a aumentare altre posizioni che sono queste o altre che su altri portafogli perché non l'ho detto in passato però sto diversificando anche dal punto di vista dei broker ma ne parleremo in un video futuro come funziona la mia strategia in questo caso io ho aperto questo prezzo di carico 12,97 e avevo venduto 5 call a 13 in questo momento mi andava bene che il titolo andasse così in basso per cui questa posizione è stata tenuta e mantenuta semplicemente perché questa è un'azienda che io ho piacere a tenere in portafoglio per il lunghissimo periodo per cui il fatto che sia chiuso oppure no con l'opzione non mi interessa anche perché a dicembre c'è stato l'ex dividend date e a gennaio mi incasserò al netto della doppia tassazione 105 euro di dividendo per medical property trust che male alla pancia non fa per cui quello che faccio di solito è acquistare un tot numero di pioni e quello che mi posso permettere in base alla liquidità che ho in questo caso aprendo l'aperta su medical property trust erano 500 azioni per cui io mi sono venduto 5 call semplice così come si va a operare su bg saxo per le opzioni in questo caso si può selezionare il titolo in questione oppure si può cercare lo strumento selezionando semplicemente opzioni qui dalla schermata e poi cercare l'opzione che si vuole andare a tradare se invece si vuole vedere se l'azienda ha possibilità di tradare in opzioni semplicemente qui dal lato destro troviamo altri strumenti da poter utilizzare per questo titolo sono i cfd e le opzioni per cui un metodo per appunto andare a operare in opzioni e cliccare su opzione su azione ci compare la schermata di contrattazione il ticket di contrattazione quello che faccio io solitamente mettere al limite delle volte alzo un po la posta che è bello fare così selezionare la quantità e mettere la vendita in questo caso e selezionare il prezzo strike per esempio vorrei mettere 13 qui magari alzare un attimino a 0 15 o a 0 20 in questo caso io per esempio mi andrei a incassare 100 euro nel caso in cui questo prezzo venisse toccato durante la settimana la scadenza che utilizzo per medical property trust è sempre settimanale perché appunto hanno scadenze settimanali ovviamente aumentando il periodo il premio va ad aumentare ma questo non è quello che mi interessa perché quello che cerco di fare è liberare la liquidità ogni sette giorni perché se trovo occasioni in quel periodo insieme ai dividendi ai premi incassati e la liquidità che aggiungono al mio stipendio posso andare a fare operazioni per esempio di acquisto di alcuni prodotti che mi interessano un altro modo per poter negoziare in opzioni con bg saxo e cliccare appunto su il tassino qui in alto serie di opzioni in cui ci compaiono tutte le opzioni disponibili e quello che faccio in questo caso come si può vedere è andare a cliccare su strategie in questo caso si possono selezionare già delle strategie ben definite come ad esempio lo strangle selezionando però magari che ne so qui 13 e qui 12.5 e in questo caso magari andando a vendere e vediamo che ci va a incassare due volte il premio o comunque ci sono tante altre tipologie di combo oppure si può semplicemente andare a dire aggiungendo delle leg di fare una strategia personalizzata io non sono espertissimo in opzioni per il momento sto operando solo in vendite di call proprio perché è un qualcosa che capisco e tra l'altro anche così si fanno errori le opzioni sono dei derivati e sono più semplici da gestire se ovviamente si vanno a possedere i sottostanti proprio perché almeno c'è un diciamo un cuscino materasso che è sottostante la mia intenzione di andare a approfondire ancora di più questo strumento proprio per andare a generare un flusso di cassa maggiore settimana dopo settimana ed andare a incrementare la mia tra virgolette ricchezza personale nel minor tempo possibile bene al di là di acquista voce di una persona che sta cambiando sesso che è ritornato nell'età della pubertà ritorniamo alla mia faccia eccoci tornati qui se il continuato è stato il tuo gradimento ti chiedo per cortesia di farmelo capire con un bel pollice all'insù in modo che l'algoritmo di youtube lo possa capire i miei iscritti salga non hai visto le sezioni installate ma insomma sapete perché lasciami anche un commento qui sotto e dammi le tue impressioni sulla mia operatività e poi sei nuovo sul canale e non vuoi perderti nessuno video successivo ti prego di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così tutti i nuovi video pubblicati ti saranno notificati bene anche per oggi è tutto e non mi resta solo che diretti a un prossimo video ciao presto